La Prefettura di Salerno chiede al Comune di Eboli di fornire ogni elemento utile e conoscitivo sul regolamento per la gestione dei beni patrimoniali approvato lo scorso 13 luglio in Consiglio Comunale. E' quanto si apprende da una nota del Vice Prefetto Vicario inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale. Tale richiesta scaturisce dall'istanza presentata dall'opposizione, secondo cui il regolamento presenterebbe diversi profili di criticità, prevedendo disposizioni che non garantirebbero la necessaria imparzialità e trasparenza e che sarebbero in contrasto con il vigente codice degli appalti.